Giusta l'alimentazione è tanto scuola per studiare e crescere meglio, diciamo che è un progetto che è nato in collaborazione con la Federazione Italiana Medici per gli altri e che è plasonato, siamo plasonati, perché il Senato, la Camera e il Ministro della Salute si hanno dato il loro patrocinio insieme al suo progetto scuola e alla Regione Lombardia. Bene, diciamo, il tema dell'obesità è un tema abbastanza grave e importante, l'Italia poi ha un bel primato anche in questo senso, ahimè, quindi avete visto il 23% dei nomini italiani sono in sovrappeso, 1 su 4, il 9,8% è obeso. Questo tema che coinvolge sicuramente non solo l'Italia, però è un tema che scatena poi una serie di situazioni, di pregiudizi, di eliminazioni, di discriminazioni che tante volte si risolvono in fatti abbastanza traumatici. Il MIUR ha inviato alle scuole proprio un invito a lavorare in questa direzione sulla sala alimentazione anche in occasione della settimana mondiale dell'alimentazione che è dal 12 al 17 ottobre, quindi siamo perfettamente in linea con quelle che sono le alimentazioni. Siamo alla terza edizione, quindi Federazione Italiana Medici Pediatri e diciamo, la federazione ha sposato dall'inizio questo progetto proprio perché in linea con tutte quelle che sono le attività, gli obiettivi che dall'associazione si è data in questi dati. Diciamo che i ragazzi lavorano insieme agli insegnanti con un kit didattico che è gratuito, questo va chiarito perché in scuole italiane siamo in queste condizioni, ma noi siamo felici. Quindi il kit è gratuito, all'interno del kit le insegnanti trovano 10 schede didattiche sulle varie tematiche che sviluppano la colazione, la mentale, il pranzo, la merenda e la cena. Quindi queste quattro tematiche vengono sviluppate di anno in anno con tematiche con approfondimenti. C'è un gioco di classe, il famoso gioco dell'OCA che abbiamo riqualificato perché effettivamente i bambini imparano giocando. Poi abbiamo degli insegnanti e qualcuno ci racconterà queste esperienze. Quindi il gioco è la chiave poi di lettura per insegnare ai bambini ciò che è buono e ciò che non è buono e già questo sarebbe una cosa importante da apprendere.